Importanti misure al sostegno della famiglia nelle marche, vuole essere vicino a chi ha intrapreso il proprio progetto di vita in questa direzione. La misura più importante riguarda i voucher che sostengono la spesa sull'asino nido, che è una spesa normalmente importante e permette ai genitori di lavorare. Un secondo filone riguarda il trasporto, il trasporto scolastico, anche qui per la famiglia può diventare un onere significativo e c'è un contributo da parte della regione. In terza misura i centri estivi per permettere ai ragazzi d'estate, quando normalmente i servizi dei comuni chiudono battente, di avere un'alternativa sul territorio. Un sostegno per le famiglie con un solo genitore, che è un tema non secondario, anche qui parliamo di contributi importanti. Infine dei corsi che è proprio di aiuto alla gente di realità, insegnano un po' il mestiere di genitore e sostengono questa importante funzione. Quindi iniziative che riguardano la famiglia tutto tondo, risorse importanti parliamo di 4 milioni e 700 mila euro, la volontà da parte della regione, in una funzione che è poco sostenuta in generale dallo Stato, di avere la regione vicina.